Andiamo! Capita a tutti di fare scherzi al mare! Sì, Cressi, ma come li fai tu? Sono veramente terribili! Non è vero, Cadiax! Sono solo scherzi un po' matti! Ma aspetta un attimo! Spieghiamo da dove tutto è iniziato! Ah, oggi è una bellissima giornata! Che bel sole! Poliziotta, ti vado di venire a fare un bel topo io e te! No! Uffa! Io però ci speravo! Uff! Delle bellissime piante di edera sono effettivamente velenose e potrebbero irritare la mia pelle! Ehi, Cadiax! Noi, cioè io e te e la poliziotta siamo i denti, amici! Sei pronto per una nuova giornata super mega divertente! Ma perché sei così euforico? Perché è il momento di fare un bel topo! Andiamo! Eh no, preferisco stare qua o stare le piante di edera velenose che possono causare per un rito la pelle in piammazioni! E, Cressi? Va bene, ciao Cressi! Poliziotta, parti da pallone? No, ho un dito rotto, non posso! Cadiax, guerra di pistole d'acqua? Cressi, tu lo sai che l'acqua non potabile potrebbe fare mare al colpo, vero? Quindi no, preferisco stare qua o stare male le mie piante! Sono stanco! I meddamici, ovvero i miei amici, non vogliono giocare con me! Eppure è una bella giornata! Sono lì a guardare le piante, quello là e quello a prendersi il bel sole! Ma se Cressi non va dal gioco, il gioco va da Cressi! Gli farò degli scherzi, così gliela farò pagare! Sì, degli scherzi qui in mare sì! E tutti voi potrete vedere i dieci scherzi dal mare al mare ai vostri amici! Primo scherzo! Guardate la poliziotta come si riposa al mare! Non sa proprio quello che gli aspetta! Ah, sento troppo caldo! Mi sa che andrò a fare un bellissimo bagnetto al mare! Vado e mi vado a rinfrescare tutta! Perfetto, la poliziotta se n'è andata! È il momento di attuare il mio piano! Scaverò una buca mega gigante, così quando lei si siederà sulla tovaglia in realtà ci cadrà dentro! Devo muovermi! 2000 anni dopo! Eh, eh, ok, 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 ce l'ho fatta! Oh, cavolo, la poliziotta sta tornando! Devo muovermi! Ok, devo rimettere la tovaglia al suo posto e voilà! Ah, come nuova! Devo, devo andarmene prima che torni! Ah, alla fine il bagnetto non l'ho fatto perché l'acqua era troppo! Ah, chi è stato? Oh, io, mi sono fatto male la schiena! Chi è stato? C'è caduto in pieno! Non devo assolutamente scoprire che sono io a fare questi scherzi! C'è il momento del secondo scherzo! E il vostro amico è fissato con un oggetto? Nel mio caso, con un libro? Ci penso io! Abbiamo finito il capitolo 1999, ora passiamo al capitolo 2000! Ah, che bello! Vabbè, in questo caso vi servirà una pianta, dato che lui è appassionato di piante! Qua c'è scritto che Archimede nel 1990... Un gattus africano! Oh, guarda le spine! Ah, guarda la consistenza! Ah, che bello! È veramente fantastico! Va bene, riprendiamo a leggere! Il mio libro? Dov'è il mio libro? Ho perso il libro! Dov'è andato? Dov'è? Mentre lui lo starà cercando, scavate una buca e metteteglielo all'interno! Ecco fatto in questo modo! Il mio libro! Voilà! Dov'è andato? Cresi, 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 cresi! Un'urgenza! Ho perso il mio libro! Il mio libro dov'è? L'hai visto? Dov'è? Dov'è? Mi sembra che è tipo sotterrato nella sabbia! Sotterrato nella sabbia? Dove? Tipo in questa spiaggia qui! È così immenso! Non saprò mai dove è sotterrato! No! È vero, è uno scherzo! È sotterrato qui! Aspetta un attimo! Cresi? Sì? Dov'è sotterrato? Ho perso il punto dove è sotterrato! Cresi, come fa a sapere dove è sotterrato il libro? Mia mamma! Cresi! Mamma è nella via! Il mio libro! Cresi! Oggi è una bellissima giornata! Il sole è proprio forte! Ed è perfetto per abbronzarmi! Buona notte! La poliziotta si è addormentata! È perfetto! Terzo scherzo! Lo scherzo della bronzatura! Andiamo! Perfetto ragazzi! Sta addormento! Adesso basterà prendere il vostro telefonino che nel mio caso ho trovato sotto la sabbia qualche giorno fa Andate a vedere il video se non l'avete visto e vi basterà metterlo qua sopra Si sta svegliando! Si sta svegliando! Dovete fare molta attenzione! Mi raccomando! Ok! E poi prendiamo la sua mano qua! E la sua mano qua! In questo modo si abbronzerà tutto tranne la panza! È perfetto! Adesso andiamo! Se non potrebbe svegliarsi! Ragazzi c'è un problema! Sono passate più di quattro ore! Ma la polizia... La mia pancia! Non sono abbronzata! No! Sono brutissima! Alla forma del mio telefono! Anzi no! Del telefono di crazy! Non sa che si è svegliata! Guardate che brutta! Ah sì giusto! Voi non la state vedendo! Eccola qui! Quarto scherzo! Il vostro amico è come il mio Cadiax che si addormenta sempre al mare! Guardate che carino! Si è addormentato! E fidatevi lui ha il sonno pesante! Anche se gli gridassi nella bocca! Cadiax! Continua a dormire! È arrivato il momento di sotterrarsi! Come si sentirà quando si sveglierà? E si ritroverà incastrato nella sabbia? Scopriamolo! E questa è l'ultima! Dove sono? Eh no! Non è colpa mia! Aspetta! Aspetta un attimo! Ripermi! Non hai assolutamente prove che sono stato io! Crazy! Sei stato tu! No! Ripermi! Aspetta un attimo! Io ho visto un granchio che faceva tutto questo! Crazy! Ho detto che devi liberarmi! Ehi! Senti! Non è che ci penso! Mi sta ricarando ancora! Aiuto! E ci sentiamo! Aiutatemi! Two thousand years later! Ora basta! Ora basta! Sono stanco degli scherzi di questo maledetto! Gliela farò pagare cara! Poliziotta! Io adesso sono stanco eh! Anch'io sono stanca! Gliela faremo pagare! Sì! È da tutto il giorno che continuo a farci questi scherzi! Io non li sopporto più! Io immetto uno scherzo! Vieni con me! Quale scherzo? Poliziotta! Ah! Dopo una giornata di scherzi! Ovviamente il re degli scherzi! Crazy! Metti il matto! Si può rilassare qualche oretta! Mi metterò qui! E mi godrò il bel panorama! Anzi! Ho un po' di sonno! Mi addormento! Buonanotte! Guarda questo qui! Per fare cavettoria! Crazy! Con i palloncini! Finalmente potremo prenderci una bella vendetta! Perfetto! Confiamo il palloncino! Ed ecco fatto! Gavettone pronto! Adesso ce la faremo pagare! 3, 2, 1... Gavettone in acqua! Sì! Crazy! Crazy! Siete completamente impazzite! Ti è piaciuta questa vendetta? Questo scherzo è stato veramente bello, vero? È stato disgustato! È stato disgustato anche quei scherzi! Hai capito? Ok, però non c'è bisogno di alterarsi così, poliziotta! Fatto sta che io sono tutto bagnato! Mentre voi non siete bagnati! Oh, poverino! Non mi interessa dopo tutti quegli scherzi! Non ci porta! Mi hai nascosto il libro e mi hai fatto tanti scherzi brutti! Non ci porta noi se sei bagnato a meno! Questa è una dichiarazione di guerra! Non abbiamo paura della tua pistola d'acqua! Forse abbiamo paura! Guerra! Sì, è qua! Non sappiamo, Polino! Questa è biranina della mia accogliatura! Siedite qua! Me lo pagherete, caro!